Bentornati su MyFootballGersey. Abbiamo già visto la maglia del Giappone, la seconda maglia del Giappone. Trovate qui in alto la recensione. Ora andiamo a vedere la prima in edizione FAN. La maglia della Nazionale di Calcio Giapponese 2022 di Adidas è prevalentemente blu con una grafica sottile che copre la parte anteriore e le maniche. La parte posteriore è di colore blu. La grafica della nuova maglia home del Giappone 2022 è composta da linee e mostra uno stormo di gru origami ispirate allo stemma della federazione. Dal punto di vista del modello la maglia si basa sul modello della Coppa del Mondo Adidas 2022 con pannelli laterali rossi e tessuto traspirante bianco sotto le ascelle. Pantaloncini bianchi e calzettoni blu completano il look della nuova maglia. Gli inserti in mesh sotto le braccia e la tecnologia anti-umidità AeroReady assicurano il massimo comfort ai tifosi. Questa maglia è molto bella. Secondo me è più bella della seconda e nella mia personalissima classifica questa prende 5 stelle. Devo dire la verità secondo me sarà una delle più belle dei prossimi mondiali. Qui in alto vedete il costo che per una maglia fatta così bene è veramente bassissimo. Peraltro è arrivata con dei tempi di consegna incredibili. È arrivata in 18 giorni. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Ora vi lascio la parte in cui vedrete la vestibilità. Quindi spero che nel frattempo possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Ditemi anche nei commenti cosa ne pensate della maglia e quali altre maglie vorrete vedere in futuro. Per oggi è tutto. Ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FAN. 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 FAN.